ciao sono rai paci un saluto a tutte le ragazze e ragazzi dell'associazione casa vi mando un saluto affettuoso e lunga vita ai progetti di vergo ciao cittadini di lecce presenti al teatro paesiello buonasera a tutti sono simone cristicchi perché vi mando questo video messaggio perché sono un amico dei divergo di questa associazione di questi ragazzi fantastici straordinari che mi hanno veramente colpito al cuore ti mando un grande bacio a tutti i ragazzi di divergo sperando di rincontrarci presto io spero che esista anche un dio delle piccole cose che sappia i silenzi mai diventati parole che sappia i gradini di pietra le stati scoscese quel nome che hai proprio lì sulla lingua e non viene dio mostra le passi di danza che aveva sbagliato conserva le foto in cui si era trovata per caso raccogli le briciole perse di ogni esistenza i respiri sui vetri di treni in partenza grazie a tutti